Musica Campobello esposto sull'operato della commissione straordinaria e la regione dispone un'ispezione al comune. Alcamo, ricordata ieri la strage di Alcamo Marina, 39 anni fa, l'escidio di due carabinieri. Di Trapani, Ryanair lancia la nuova programmazione estiva dei voli tra conferme e novità. Mazzara, illuminazione pubblica fa i datemi a buon anno e i residenti sul piede di guerra. Calcio, il Mazzara ritorna a casa al Nino Vaccare, derby di domenica contro l'Alcamo. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo. Oltre alla giornata della memoria, ieri era anche il giorno del 39esimo anniversario della cosiddetta strage di Alcamo Marina, nella quale il 27 gennaio 1976 morirono i carabinieri Carmine Apuzzo e Salvatore Falcetta. Come ogni anno sul luogo dell'escidio, si è tenuta una cerimonia alla quale hanno preso parte le autorità civili e militari. Risentiamo le interviste realizzate al comandante provinciale dei carabinieri Ferdinando Nazzaro e al sindaco di Alcamo, Sebastiano Bometre. Mi piace ricordare insieme a voi, insieme alla comunità alcamese, il sacrificio di questi nostri due carabinieri. Il carabinieri, l'appuntato Falcetta, vorrei ricordare che all'epoca aveva 36 anni, il carabinieri Apuzzo aveva soltanto 19 anni. Io ho avuto modo di vedere le immagini del funerale, il giorno del funerale e della partecipazione, devo dire, di tutta la comunità alcamese. Era una partecipazione veramente commossa e questo credo sia la migliore risposta di vicinanza e di affetto nei confronti di questi nostri due carabinieri scomparsi nell'attempimento del dovere e conseguentemente nei confronti dell'arma dei carabinieri. Noi siamo commossi e soprattutto siamo profondamente vicini ai loro cari, appunto i loro familiari che a distanza di 39 anni ancora sentono fortemente e disperatamente la scomparsa dei loro cari appunto morti prematuramente. Purtroppo questo mistero rende intollerabile la situazione, la giustizia vorrebbe che ci fossero dei colpevoli e che questi colpevoli andassero dove meritano, cioè in galera per tutto il resto dei loro giorni. Uno dei tanti misteri italiani, le ipotesi sono state fatte tante, sono stati, secondo la giustizia, degli innocenti, sono stati in galera. Tutti hanno pagato un prezzo troppo alto e c'è bisogno di chiarezza. Lo dobbiamo per i carabinieri che sono stati uccisi, lo dobbiamo per la nostra popolazione, per i nostri giovani perché quando si assicura un responsabile alla giustizia si dà credibilità allo Stato. Arriverà anche in provincia di Trapani il cosiddetto furgone della legalità del CGL e mezzo con il quale il sindacato sta facendo un tour nazionale sul tema legalità, una svolta per tutte. L'iniziativa farà tappa domani nel capoluogo e a Castelvetrano con la visita in alcune aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. Per l'occasione a partire dalle 17.30 si terrà una conferenza stampa a Palazzo Riccio di Morana, sede dell'ex provincia di Trapani. Controlli della regione della Corte dei Conti siciliana sull'operato della Commissione straordinaria che ha guidato il comune di Campobello di Mazzara il servizio. L'operato della Commissione straordinaria che ha guidato per oltre due anni il comune di Campobello di Mazzara finisce sotto la lente di ingrandimento della regione e della procura della Corte dei Conti siciliana. Con un decreto firmato lo scorso 9 gennaio infatti il dirigente generale dell'assessorato regionale per le autonomie locali Giuseppe Morale ha nominato un funzionario per effettuare un accesso ispettivo presso l'ente locale campobellese. Sulla vicenda allo stato attuale non si sa molto, non si sa per esempio quali saranno gli atti che verranno sottoposti a controllo e su quali aspetti in particolare verterà l'ispezione disposta dalla regione. Si sa soltanto che a chiedere l'intervento è stato lo scorso 27 novembre la procura della Corte dei Conti a seguito di un esposto presentato il 22 maggio 2014. Un esposto che sarebbe stato presentato dal Comitato Libere Cittadini Campobellesi ma anche di questo comitato non si sa molto e non si sa da chi è composto motivo per il quale si potrebbe anche immaginare che l'esposto in questione possa essere stato presentato in maniera anonima. Sta di fatto comunque che in ogni caso nei prossimi giorni arriverà un funzionario regionale per gli accertamenti di rito e per verificare come si legge nel decreto regionale la fondatezza delle irregolarità segnalate quantificando in caso di riscontro positivo l'entità del danno causato da eventuali condotti irregolari poste in essere dalla Commissione guidata da Esther Mammano. Ad effettuare l'accesso al Comune Campobellesi sarà Carlo Turriciano in servizio presso l'ufficio ispettivo del Dipartimento regionale per le autonomie locali. Dal momento del suo insediamento Turriciano avrà 60 giorni di tempo per portare a termine tutti gli accertamenti necessari. Gli esiti dell'ispressione verranno poi smestati alla Procura della Corte dei Conti. Come si ricorderà la Commissione straordinaria ha guidato il Comune di Campobello di Mazzara sino ad un paio di mesi addietro per tutto il periodo intercorso tra lo scioglimento per mafia del lento locale e le elezioni amministrative dello scorso novembre. Una convenzione è stata siglata oggi dal direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Trapani Fabrizio De Nicola e dal comandante del sesso reggimento bersaglieri colonnello Antonino Poma. La convenzione permetterà agli ufficiali medici e sotto ufficiali infermieri effettivi al sesso reggimento di frequentare il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate. La convenzione per l'addestramento clinico pratico del personale sanitario militare durerà inizialmente un anno. Slit il pagamento del saldo della tariffa di igiene ambientale 2013 a Mazzara del Vallo. L'amministrazione comunale infatti ieri ha reso noto che ci sarà tempo fino al 28 febbraio per pagare il tributo. Il differimento della scadenza originariamente prevista per il 31 gennaio si è reso necessario come ha evidenziato l'assessore al bilancio Vito Bilardello in quanto le relative bollette sono state messe con ritardo. Non tutti i cittadini manzeresi le riceveranno entro sabato prossimo. Inoltre eventuali errori nel calcolo della bolletta potranno essere segnalati all'ufficio tributi del comune. Restiamo a Mazzara, parliamo di illuminazione pubblica, protestano alcuni residenti in via Santoro Bonanno per il guasto corso a due pali della luce. Sentiamo. Illuminazione pubblica a Mazzara del Vallo, una problematica annosa che si trascina ormai da tanti anni, svariate le segnalazioni che si susseguono nei giorni, nei mesi, negli anni. Questa sera ci troviamo in via Santoro Bonanno, in una zona centrale di Mazzara. Siamo a due passi dalla scuola elementare, a due passi dalla piazza Iman al Mazzari. Due pali dell'illuminazione che non funzionano. Un guasto che sta creando tantissimi disagi ai residenti. È vero Giuseppe Montalto? Sì, certo. È da un paio di mesi, da sei mesi circa, che qua ci troviamo a buio. Come avete notato siamo illuminati dall'illuminazione che ho dovuto installare io, provvisoriamente, perché qua siamo totalmente al buio. Tanto è vero che dobbiamo entrare con i telefonini per vedere i buchi delle serrature, quindi è una cosa un pochettino grave. A parte che la settimana scorsa abbiamo ricevuto un furto e hanno, come al solito, arrampicato dai tubi delle prontai, dai tubi dei gas, quindi hanno scavalcato, rotto finestre e hanno rubato delle cose. Noi cittadini di questa strada ci vergogniamo che ancora, a sei mesi, non risolvono niente. Siamo andati all'ufficio tecnico e ci hanno informato che l'appalto deve essere dato e le buste si apriranno in questi giorni, quindi ancora il fatto non c'è. Quindi noi siamo messi al degrado. Come potete vedere siamo al buio completamente. Quattro anni e da sei mesi l'altro palo, come questo di qua, è proprio al buio. Quindi noi cittadini di questa strada ci spaventiamo. Anche i bambini che escono dalla porta è normale, al buio non vedono niente. Qualcuno può fare qualche razzia, dare qualche colpo in testa a qualcuno, entra e fa danno, quindi non è che è una cosa grave. Io spero che magari con Televallo si riferi a qualche cosa, io non lo so. Rimanete fiduciosi, tra virgolette, che questa gara d'appalto, queste buste, insomma, si riesca a intervenire nel più breve tempo possibile. Io spero, a meno che il signor Sindaco provi qualche altra cosa e ci viene a mettere qualche jarra, qualche ceramica al posto dei campioni. Magari avremmo più persone che vengano a visitare la strada. Perché arrivato a questo punto al Sindaco gli interessa più la ceramica che tutte le problematiche della città. Sia fognatura, strade rotte, marciapiedi avvallati. C'è una cosa assurda. Si è riunito ieri pomeriggio il Consiglio Comunale di Marsala. Dopo alcuni interventi di consiglieri, il Presidente Enzo Sturiano ha proposto una sospensione della seduta al fine di stilare un ordine dei lavori. Al rientro in aula però non c'era il numero legale. La seduta pertanto è stata aggiornata questo pomeriggio in prosecuzione alle 17. Con l'obiettivo di ridurre i costi della politica locale il gruppo consigliare di Alcamo Benecomune ha presentato una mozione che mira a regolamentare l'erogazione dei gettoni di presenza ai consiglieri comunali alcamesi. Attualmente ricordano i tre consiglieri di ABC i consiglieri percepiscono un gettone di presenza indipendentemente dal raggiungimento del numero legale all'interno delle commissioni. Da qui la proposta di modificare tale regolamento ponendo come vincoli per l'erogazione del gettone l'effettiva partecipazione dei consiglieri ai lavori delle commissioni il raggiungimento del numero legale e la trattazione dell'ordine del giorno. Fare fronte comune per promuovere iniziative di promozione del territorio in occasione dell'Expo 2015 l'esposizione universale che si terrà dal 1 maggio al 31 ottobre a Milano è l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato ieri tre comuni di Castelvetrano Campobello di Mazzara, Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia Santa Margherita Belice il Parco archeologico di Selinunte la Camera di Commercio di Trapani a programmare l'iniziativa sarà un comitato promotore che verrà ufficialmente costituito l'8 febbraio. Nuovo appuntamento oggi con la scuola biblica della diocesi di Mazzara del Vallo a partire dalle 17.30 nei locali del seminario Vescovile si terrà il non incontro del ciclo promosso dalla scuola che verterà sulla conoscenza e sull'attualizzazione degli atti degli apostoli la partecipazione gratuita. La Ryanair ha lanciato la nuova programmazione da voli per la stagione estiva da per l'aeroporto di Trapani-Birgi il servizio. Sono 25 le destinazioni che si potranno raggiungere dall'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi nei prossimi mesi. La novità è emersa ieri nel corso di una conferenza stampa tenutasi allo scalo trapanese per rappresentare la nuova programmazione estiva di Ryanair la compagnia aerea low cost irlandese che da anni fa base proprio all'aeroporto Florio. Un ventaglio di destinazioni italiane ed estere con le quali i vertici di Ryanair puntano a trasportare da e per Trapani circa 1 milione e 400 mila passeggeri. Novità importanti insomma che arrivano dopo mesi di fibrillazione e preoccupazione attorno al futuro del Vincenzo Florio legate al possibile addio degli irlandesi a Trapani. E invece Ryanair continuerà a volare in Sicilia occidentale anche grazie all'impegno finanziario dei comuni trapanesi nell'ambito dell'accordo di co-marketing siglato nei mesi scorsi. Dunque è già possibile prenotare online i voli approfittando anche di una promozione lanciata dalla compagnia aerea in occasione del trentesimo anniversario dalla nascita. Nel dettaglio delle 25 destinazioni annunciate ieri 13 riguardano collegamenti nazionali. Si potrà volare per Ancona, Bologna, Cagliari, Cugno, Genova, Bergamo, Parma, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Treviso e Trieste. Per quanto riguarda invece collegamenti all'estero dall'aeroporto trapanese si potranno raggiungere direttamente nove paesi ovvero il Belgio, la Francia, la Germania, la Lituania, Malta, l'Olanda, Polonia, la Slovacchia e la Spagna. Sabato prossimo con inizio alle 16 a Manzara del Vallo verrà presentato Mafia e Coppe Rosse saggio a quattro mani iscritto da Elio Sanfilippo e Nino Caleca rispettivamente vicepresidente nazionale di Lega Coppe e assessore regionale per le risorse agricole. L'incontro dibattito si uterrà nei locali del distretto produttivo della Pesca Cosvap in via Gian Giacomo Adria. Oltre due autori interverrà all'incontro anche il presidente del distretto mazzarese Giovanni Tumbiolo. Appuntamento con le arance della salute venerdì mattina a Mazzara del Vallo l'iniziativa dell'Associazione Italiana per la ricerca contro il cancro si uterrà in Piazza della Repubblica e al quarto circolo didattico Giovanni Battista Quinci. In particolare la manifestazione si uterrà dalle 8.30 alle 19 nella Piazza Mazzarese e dalle 8.30 alle 13.30 nel plesso della scuola in via Belli. Anche a Mazzara dunque sarà possibile acquistare le arance e dare un contributo alla ricerca contro il cancro. si uterrà il 30 e 31 gennaio e il primo febbraio dalle 16.30 alle 18.30 a Teste e Cappello, un laboratorio rivolto ai bambini dei 5 agli 11 anni promosso dall'Associazione Oliver di Mazzara del Vallo. Il primo incontro si svolgerà presso il Teatro Garibaldi dove l'attore Giacomo Guarneri leggerà l'ora blu. Ed ora allo sport calcio, il Mazzara domenica giocherà allo stadio Nino Vaccare il servizio. Dopo 24 partite in stagione, giocate in lungo e largo nei vari campi della provincia di Traveni e della Sicilia, il Mazzara fa finalmente il ritorno a casa. Il derby di domenica prossimo contro l'Alcom infatti verrà disputato allo stadio Nino Vaccare dove sembra siano stati portati a termine lavori di adeguamento degli spogliatoi e di sostituzione del manto in erba sintetica. Dunque, salvo clamorose novità e ulteriori intoppi, i canarini potranno riabbracciare i propri tifosi dopo ben cinque mesi di disagi. In tal senso, ieri il Comune Mazzarese ha fatto sapere che la Lega ha già autorizzato la disputa di gare ufficiali al Nino Vaccare. L'appuntamento è quindi per domenica alle 15 quando i gialloblu scenderanno in campo per la ventunesima giornata del gigione A del campionato di eccellenza. Finora sono state 14, compresa la Coppa Italia, le partite casalinghe disputate lontano dal Nino Vaccare, mentre da qui alla fine del torneo il Mazzara potrà disputare soltanto cinque match del proprio stadio, compreso il derby con l'Alcamo ed esclusi gli eventuali play-off. Per il ritorno a casa della squadra, la dirigenza canerina chiama a raccolta i propri tifosi, chiedendo loro di assistere in massa alla gara di domenica anche per dare un sostegno economico alle casse della società. Non a caso per la partita contro l'Alcamo è stata indetta la cosiddetta giornata gialloblu. Il costo del biglietto per assistere alla gara sarà di 10 euro per la tribuna, 8 euro se acquistato in prevendita e 5 euro per assistere al match dalla gradinata. Calcio giovanile triangolare di lusso sabato prossimo al club Fontana Salsa di Mazzara del Vallo dove i baby calciatori della società Mazzara Innes la vedranno con imparietà del Palermo e del Trapani. Ad affrontarsi saranno in particolare i pulcini nati nel 2004 e il mini-tornino prenderà il via alle 15.30. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione non sulla nostra emisente. Vi ricordo che alle 21.35 trasmetteremo uno speciale Televallo dedicato alla politica manzarese. Ospite in studio e il capogruppo consigliare di Forza Italia Nino Arena. Io invece vi do appuntamento al TG Vallo di domani. Grazie per averci seguito. Arrivederci.